Aurora non ce la fa più, vuole un po' dormire e lei oggi ci fa ascoltare Cesare alle 6 e 30 del mattino. Maria 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 mamma! si? e tu come ti chiami? ah bel nome ah sbadigli pure? andiamo a dormire nanna? si dai nanna per favore dormiamo ancora un po' Cesare non lo ferma più nessuno infatti dalle 6.30 del mattino continua a chiamare mamma papà grazie